buonasera a tutti carissimi amici siamo appena io e pietro reduci tra virgolette da uno splendido concerto a pianoforte qui nel nostro oltre popavesi nelle colline esattamente di pietra de giorgi questa è la piazza del palazzo municipale piazza dedicata a il compianto don valentino arpesella un parroco coi tanto fece per la sua comunità e siamo anche vicinissimi antistanti all'entrata del castello di pietra de giorgi ora da l'anno scorso proprietà privata pietra sapete come io amo questo borgo dove già da anni organizzo organizzo eventi d'arte di cultura questa sera vi dicevo reduci io e mio marito pietro da questo bellissimo interessantissimo molto vissuto vero pietro concerto a pianoforte degli allievi del conservatorio tenuto questo concerto dagli allievi del conservatorio di parigi il professore che li coordinava è il maestro professore daniel gardion abbiamo anche fatto delle riprese video abbiamo fatto anche delle foto molto toccanti molto significative nel contesto del cantinone medievale perché vi dico vi dico ora appunto che anche se siamo in piena estate siamo stati ospitati sempre nel bellissimo e storico cantinone medievale qui di pietra de giorgi che voi per chi mi segue che per mi conosce già da tempo sa che è sempre stata la location dei miei eventi d'arte e di cultura che dire una serata freschina ora siamo appena usciti e qui veramente in questa piazzuola veramente molto suggestiva vi ricordo sempre nelle alture dell'oltre po pavese vi ricordo pietra de giorgi provincia di pavia oltre po pavese collinare buona continuazione buona serata a tutti colgo ancora l'occasione per farvi di nuovo gli auguri e di un buon proseguo d'estate e di un imminente buon ferragosto ciao a tutti